Bisognava partecipare perché quando partecipano giovani studenti bisogna far sentire la presenza delle istituzioni. Un progetto interessante che riguarda il futuro indirizzo degli studenti nel mondo lavorativo. Quindi c'è questo progetto molto interessante dove si è lasciata libertà di idee agli studenti per prendere spunto di quelle che possono essere le varie opportunità dopo la scuola. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha ritenuto opportuno sponsorizzarla con questa iniziativa, con un piccolo contributo che ritengo sia molto, che abbia molto valore perché spinge i giovani a cercarsi un futuro da solo. Non c'è solo il lavoro dipendente, non c'è solo il pubblico impiego ma c'è anche una attività, una ricerca di attività diciamo di autoimpiego per dare sfogo a quelle che sono le caratteristiche di ogni giovane, quindi una grande iniziativa dell'Istituto Pacioli Grimaldi che penso sia di buon auspicio per il futuro degli studenti della Calabria.